Da domenica 11 giugno torneranno a circolare i treni tra le stazioni di Lierna e Varenna sulla linea Milano-Sondrio. Lo comunica RFI, reti ferroviarie italiane, tramite una nota. Il traffico su quel tratto di linea era stato sospeso lo scorso 19 maggio a causa di una frana che aveva provocato danni all'infrastruttura ferroviaria all'altezza di Fiumelate nel Lecchese. In particolare, sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza del versante e di consolidamento strutturale di una galleria. Per ripristinare la piena funzionalità della linea, sono stati impiegati oltre 50 tecnici tra personale RFI e ditte appaltatrici che hanno lavorato per riattivare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Sempre da domenica sarà interrotta la circolazione sulla linea Sondrio-Tirano. La chiusura inizierà a luna di notte dell'11 giugno per concludersi il 10 settembre prossimo. Ci sarà anche una ulteriore estensione dell'attività che comporteranno la chiusura della linea da colico per 21 giorni a partire dal luna di notte del 6 agosto.